Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Come sapete il 14 novembre è stato il mio compleanno Voglio approfittare di questo video per ringraziarvi veramente tantissimo per gli auguri Sono stati tantissimi, non mi aspettavo veramente che mi scrivesse così in tanti ovunque Quindi grazie di cuore e come sapete ho compiuto 40 anni Ragazzi non mi sembra vero, è tipo la prima volta che lo dico ad alta voce e fa stranissimo E non voglio fare lo stesso errore di quando ne ho compiuti 30 che mi vergognavo a dirlo Mi sentivo vecchia e non l'ho detto praticamente da nessuna parte E adesso riguardandomi indietro dico cavolo ma che scema, cioè ma perché mai mi vergognavo a dirlo Non so, la società ci condiziona a tal punto che a 30 anni pensiamo di essere vecchia Io non lo so e quindi adesso che ne ho compiuti 40 non voglio fare lo stesso errore Per poi tra 10 anni guardarmi indietro e pensare ma perché non l'ho detto, perché mi vergognavo Ero giovane e bella e quindi questa è l'età che compio ragazzi Tanti di voi, io non so, cioè ho sempre detto in realtà di essere nata nell'84 Quindi però in tantissimi mi hanno scritto Oh mio dio ma io pensavo avessi 27, 28, non so come sia possibile però vi ringrazio Mi fa ridere questa cosa perché veramente non me l'aspettavo Ma ci sono stati davvero tantissimi commenti che mi dicevano Ma io non ci credo che tu abbia 40 anni, come fai? Droppa la tua skin care routine Quindi ragazzi questo video sarà interamente dedicato alla mia skin care routine E a cosa faccio e a cosa ho fatto in tutti gli anni passati Per insomma avere una bella pelle Io non mi sento di dire che non dimostro l'età che ho Non ho una cosa che mi piace dire perché non c'è niente di male nell'età che ho E quindi però sono ovviamente mi fa molto piacere Vi ringrazio perché sono dei bellissimi complimenti E ne approfitto per fare questo video E spillare tutto il tea e raccontarvi tutti i miei segreti di bellezza Segreto numero uno non prendo mai il sole ragazzi So che può essere una cosa scontata ma tutti gli studi del mondo ormai hanno dimostrato Che il motivo numero uno dell'invecchiamento della pelle è il sole Sono i raggi UVA UVB quindi quello che ho sempre fatto da quando ho tipo 20 anni Metto sempre la protezione 50 più che sia estate che sia inverno La indosso sempre Se sto a casa per esempio e ho il sole addosso Metto la protezione 50 più anche in quel caso Quando vado al mare sto all'ombra e continuo a riapplicare la protezione Non ho mai fatto lettini solari Lampade le evito veramente come la peste I solari che sto utilizzando in questo periodo sono questi due di Isdin Uno è il Fusion Water Magic Glow Che è protezione 30 ma dà un effetto luminoso bellissimo E poi sempre linea Fusion Water Questa è la Magic Repair di Isdin Questa è ottima anche come primer per il make up come base sotto il make up Mi sta piacendo moltissimo anche questa di La Roche Anche questa ottima sotto il make up Sempre 50 più questa è la Antilios UV Moon 400 Mi sto trovando molto bene anche con questa di Darling Questa è sempre 50 più E con questa di Audacity che è il fattore protezione 30 Segreto numero 2 è la Red Light Therapy Una buona maschera con la Red Light Therapy Io utilizzo questa di Current Body che è la più potente sul mercato Sicuramente la conoscete già perché è virale ovunque praticamente La nostra pelle con gli anni purtroppo tende a produrre sempre meno collagene E la Red Light Therapy è stato provato che aiuta a stimolare la produzione di collagene Quindi questo è uno dei due motivi principali per cui la utilizzo Secondo motivo è che è stato provato che aiuta a ridurre ed a prevenire tutte le rughette Andate a vedervi i prima e i dopo di questa maschera perché sono sensazionali Aiuta tantissimo anche con l'acne Non è un problema che io ho però se vi vedete i prima e dopo Anche di chi soffre di acne anche quelle molto pesanti sono veramente dei risultati molto visibili Sono circa 6 mesi che le utilizzo 3-4 volte a settimana Si può utilizzare 3-5 volte a settimana E ho utilizzato sia il modello precedente a questo sempre di Current Body Che quello di nuova generazione Questo è appunto quello di nuova generazione con un sacco di cosine migliorate Ad esempio mi piace moltissimo che adesso la red light sia presente anche su tutta la mandibola È una zona importantissima da trattare Mi piace molto che la forma si adatti più facilmente al viso perché l'altra era un pochino più piatta Ma un'altra figata di questa maschera è che è portatile Quindi non devo stare ferma immobile in un punto Quando la utilizzo posso muovermi e andare in giro per casa Inoltre ogni maschera LED Current Body è coperta da garanzia Veritas Ovvero proprio come le borsette di lusso Ogni maschera LED ha il suo cartellino di autenticità con un codice seriale unico Che corrisponde appunto alla vostra maschera Andando semplicemente ad avvicinare vedete la card al mio cellulare Posso vedere il numero seriale che attesta l'autenticità della mia maschera E tutte le specifiche Posso vedere addirittura tutti i test che la mia maschera ha passato prima di essere messa in vendita Questo mi garantisce che la mia maschera offre una copertura, una precisione delle lunghezze d'onda Senza precedenti Quindi mi massimizza i risultati e so che le prestazioni sono garantite Tra l'altro secondo me essendo loro i primi e gli unici ad offrire questa card da autenticità Sono sicura che tutti gli altri brand adesso copieranno quello che ha fatto Current Body Sono molto contenta di potervi dare un codice sconto per Current Body ragazzi che è del 20% Ed è il codice sconto più alto dell'anno grazie al Black Friday Ve lo lascio qui e kiss and make up Mi raccomando però sarà attivo solo fino al 5 dicembre E ci tengo anche a specificare che non ci guadagno mai nulla se utilizzate i miei codici sconto Vi lascerò anche giù nel box informazioni sia il codice sconto che il link diretto a Current Body Segreto numero 3 sto molto attenta a proteggere la mia barriera cutanea Quindi non utilizzo prodotti che sono troppo aggressivi Non faccio scrub esfolianti sul viso Preferisco quelli chimici rispetto a quelli meccanici E non faccio overwashing Che è una cosa che pochi sanno ma la pelle basta lavarla la sera Ci strucchiamo, facciamo la nostra detersione Il mattino dopo non serve fare di nuovo tutta una detersione Perché questo può andare a danneggiare la nostra barriera cutanea Quindi quello che faccio la mattina è semplicemente sciacquare il viso con dell'acqua tiepida Non abbiamo bisogno di rilavarla il mattino Questo lo dicono i dermatologi Tutti questi consigli li danno i dermatologi Due prodotti da consigliare se avete compromesso la vostra barriera cutanea E volete piano piano rimetterla a posto Uno, semplicissimo pomata allo zinco Che non contenga cortisonici, niente Che ci sia solo la pomata allo zinco Questa l'avevo presa in Olanda Quindi per questo non riconoscete probabilmente il tubetto Ma appunto ce ne sono tantissime E sono in grado, potete lasciarle anche tutta la notte agire Sono in grado di rigenerare la barriera cutanea Altro prodotto che mi piace moltissimo E che va veramente a rigenerarla È il Cicaplast Cicaplast Balsamo di La Roche Segreto numero 4 è il retinolo e i retinoidi Questi sono degli ingredienti che non dovrebbero mai mancare nella vostra skin care Io ve lo dico sempre Ma dovete ascoltarmi Quello che utilizzo sempre, questo ha bisogno di prescrizione medica È la tretinoina, same Questo è più potente e bisogna andare per gradi Per riuscire ad applicarlo Io vabbè sono anni ormai Non conto più quante ne utilizzate di queste Ma appunto appena finisco La ricompro Non manca mai 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 nella mia skin care serale Ma ci sono tantissimi prodotti che si possono acquistare Che contengono retinolo e retinoidi Anche senza ricetta medica Alcuni brand che hanno fatto la linea retinolo Sono Drunk Elephant Mi piacciono moltissimo L'olio al retinolo e la crema Anche Pixi ha fatto una linea interamente dedicata al retinolo Questo è il tonico Ma ci sono anche il siero La crema per il viso La crema occhi E sono tutti eccezionali Altro prodotto che mi sta piacendo moltissimo E questo di Cerave Questo è il Resurfacing Retinol Serum Questo tra l'altro contiene anche niacinamide Ed è veramente un ottimo prodotto Che ho scoperto da poco Un consiglio Se iniziate ad applicare il retinolo Specialmente quelli belli potenti Con la prescrizione Se lo sentite un pochino Troppo secco per la vostra pelle inizialmente Appunto perché è una cosa che va a step Provate ad applicare prima la crema idratante Poi il retinolo E poi di nuovo la crema idratante Lo chiamano metodo sandwich Invece ho sentito che funziona Segreto numero 5 Anche questo può sembrare scontato Ma è la verità Quindi devo menzionarlo Ragazzi è una buona skin care E farla sempre Essere costanti E avere una buona skin care Questo non significa Dover acquistare per forza prodotti molto costosi Ma è importante che la nostra pelle Non sia mai secca Che non la sentiamo mai secca Quello che faccio io la mattina Vado ad applicare la mia crema occhi Questa è di Isdin Mi sta piacendo un sacco E poi la mia crema solare E questo mi basta Come base per il make up Non applico altro Perché anche esagerare Non fa bene alla pelle La sera mi strucco E lì vado molto più pesante Con l'idratazione Quindi spesso faccio un impacco Cioè applico i patch sugli occhi Ma questo mi aiuta tantissimo Ad evitare occhiaie Tutti quei segni scuri sotto gli occhi E poi la sera applico una crema Che sia un pochino più ricca Che vada a nutrire la mia pelle Durante tutta la notte E quella che mi sta piacendo tantissimo È la Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream Di Kiehl's Vi faccio vedere Perché l'ho Quasi praticamente finita Soprattutto in questo periodo Che fa molto freddo Qui lavora soffia forte Quindi la pelle si secca molto Ha bisogno Aggiungo qualche goccia Di olio per il viso Alla mia crema idratante Soltanto la sera L'olio che mi sta piacendo tantissimo È di Mask My E dei Rose Gold Oil Ne bastano due gocce Per la mia pelle E fa miracoli Quindi mia family Questi sono tutti i segreti Della mia pelle Della mia skin care routine Quindi non ditemi Che faccio gatekeeping Perché adesso sapete tutto Se avete domande Naturalmente lasciatemi tutto Nei commenti Perché sapete che li leggo Sempre tutti 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 Non vi do mai per scontati Vi mando un bacio Enorme Come al solito Non può mai mancare Il nostro braccio finale Quindi venite qua Che vi abbraccio Fortissimissimissimissimo E io vi aspetto come sempre Al prossimo video Ciao Ciao